Dopo 85 giorni di chiusura, nel giorno della Festa della Repubblica, il Parco archeologico di Ercolano torna ad accogliere i propri visitatori. Rispettando tutte le norme del distanziamento sociale per la sicurezza di ogni visitatore e di ogni lavoratore, si riparte dunque con l'orario 10.30-19.30 fino al mese di ottobre, rispettando un giorno di chiusura settimanale il martedì per una sanificazione periodica. In queste prime settimane è previsto un ingresso massimo di 60 persone, distribuite in ogni ora, per un massimo di 480 ingressi giornalieri. Al checkpoint controllo della temperatura corporea e della mascherina. Una volta avarcato il controllo biglietti, i visitatori accedono al padiglione della barca, dove è esposta la barca scoperta sull'antica spiaggia e una serie di oggetti che legano a filo doppio Ercolano con il mare. È la volta poi dell'antiquarium, con l'esposizione permanente Splendori. In questa prima fase si punta su un aspetto concreto, grazie al supporto del personale del parco, di cartellonistica di orientamento, intensificata la sanificazione degli ambienti comuni, la disponibilità di gel con dispenser che non implicano il contatto. Per la seconda fase sono già tracciati i primi passi verso una direzione che vedrà i servizi sempre più digitalizzati. Il parco ritorna a vivere, le parole del direttore Francesco Sirano. Gli scavi riaprono dopo 85 giorni di chiusura. Questo sito non era mai stato chiuso al pubblico, nemmeno durante la Seconda Guerra Mondiale, quando era stato usato come rifugio. Finalmente, oggi siamo felici. Riapriamo al nostro pubblico e abbiamo come nostro punto di riferimento la sicurezza, ma anche una concreta esperienza di conoscenza. Chi viene oggi, chi verrà nei prossimi giorni, potrà sia passeggiare in totale sicurezza, seguendo le nostre indicazioni, sia vedere il sito praticamente nella stessa maniera in cui l'avrebbe visto prima di questa triste vicenda del Covid.